Questa missione richiederà la massima invisibilità Ciao Giorno dopo giorno, stanno fermi lì e aspettano Ma quando noi ci allontaniamo, la loro avventura ha inizio Lo sole è già scontato in giallo mari Giulietta Gnomeo, se ti vede mio padre ti seppellisce sotto il patio Vedere me? Vuoi scherzare? Io sono invisibile come l'aria Dal regista di Shrek 2, Kelly Ashbury Con i grandi successi di Elton John Perciò Oh, devi essere un tipo spassoso Correte E vediamoci Salame A farvi gnomizzare In un cinema 3D Cielo Penso a un film e voi indovinate E una parola E comincia con... Spider Spider-Man Avete indovinato Gnomeo e Giulietta Non posso andare So quello che provi No, veramente sono incastrato Se pot TS Beh ci ha piaciuto Evidentico E per ora 準o Grazie a tutti.